Non era mai stata fatta un'indagine seria sul culto dell'Immacolata Diamante, che non nasce come un fungo, né nasce con la leggenda, chiaramente. Ci sono delle motivazioni storiche, anche economiche, legate alla cultura del tempo, legate ai principi del tempo, che erano i Carafa, che erano devoti dell'Immacolata, e dovuto soprattutto a un fatto avvenuto nel 1600, il giuramento del sangue all'Immacolata a Cosenza, in cui i notabili cosentini giurarono fedeltà all'Immacolata, dichiarando di proteggerla fino allo spargimento del sangue. Da quella data in poi sono nate, in tutta la Calabria, delle chiese dedicate all'Immacolata, fino al punto che Diamante non è un caso isolato, perché la Calabria è la regione d'Italia che ha il maggior numero di chiese dedicate all'Immacolata, e soprattutto si trovano nella provincia di Cosenza. Quindi un tipo di economia agricola, perché la Madonna Immacolata era protettrice di un'economia agricola. La presenza, in alternativa alla Vergine Marinare, che è protettrice dei pescatori e dei marinai, più i Carafa, che erano devoti dell'Immacolata, più questo fatto storico del giuramento del sangue a Cosenza, tutte e tre queste cose hanno determinato il cambio del protettore, perché il protettore di Diamante era San Nicola di Bari. Se non ci fosse stato un episodio abbastanza scandalistico dei Carafa nella chiesa di San Nicola, per cui il vescovo dell'epoca venne a Diamante e sconsacolò la chiesa e eliminò la statua di San Nicola, trasportandola nella cappella delle anime Purgandi, che si trovava proprio più o meno dove è la chiesa adesso. E quindi, praticamente, per questo episodio, Diamante è rimasta senza protettrice, senza protettore, no? E nell'onda delle nuove chiese, che sono nate in Calabria, nella provincia di Cosenza, dedicata all'Immacolata, è stata dedicata all'Immacolata. La statua è estremamente bella, è di eccezionale fattura, è due metri e dieci in legno di ulivo, parlando proprio in termini pratici, è costata un sacco di soldi, quindi non abbiamo notizia né di collette né di donazioni, per cui chi l'ha comprata questa statua, chi l'ha fatta venire questa statua? Sicuramente la statua è venuta da Napoli, perché è di fattura napoletana, e a Napoli c'erano i Carafa, quindi sicuramente l'hanno fatto venire i Carafa. In quell'epoca si discuteva a lungo sulla Madonna, che doveva proteggerci dalla peste, dai terremoti e dalla fame, perché la Calabria era infestata dalla colera, dalla peste. E quindi, evidentemente, nella fantasia popolare, io credo, non lo dico nel libro, perché nel libro tutto ciò che è detto nel libro è documentato storicamente, e questo non è possibile documentarlo storicamente, ma credo che siano stati i Carafa, tutto sommato, a dire al committente, cioè al realizzatore, a quello che ha fatto la statua, la devi fare con le tre dita aperte. Fatto sta che non esiste in Italia nessun'altra statua dell'Immacolata che ha la posizione di quelle mani. Partendo dalla storia della statua, il discorso si allarga sulla storia della comunità, dei festeggiamenti, c'è il parallelo con la festa marinare, soltanto una volta la Madonna Immacolata è stata portata in barca, perché la tradizione locale è quella di portare in barca la Madonna addolorata, ma nel 1938, unica volta, la Madonna è stata portata in barca. Un'altra caratteristica del libro è l'eccezionale documentazione fotografica, perché per esempio questa processione è documentata. C'è una documentazione fotografica importante che è stata possibile avere grazie alla collaborazione delle famiglie che hanno messo a disposizione delle fotografie che magari loro non sapevano manca che fotografie erano, ma che con un'azione di studio e di ricerca siamo riusciti a identificare. Grazie. 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 Grazie.